Amici di Soccer Time, sul caso dei tanti esoneri ne parliamo anche con un fresco ex campione del calcio che sta studiando per diventare allenatore, sono in compagnia di Giuseppe Pancaro, buonasera Giuseppe. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, la spiegazione che ti dai a questo esubero di panchine saltate non ultime, quelle di Collantuono e Cagni, dove è il problema secondo te? Il calcio che non riesce più ad aspettare più di tanto, i capricci di certi presidenti, è diminuita la pazienza di certe dirigenze, ti sei data una spiegazione a questa cosa? Sì, diciamo che è un insieme di tutte queste cose che hai detto te, sicuramente il fatto che oggi il calcio ricopre un ruolo importantissimo nella nostra società, insomma questo penso che sia agli occhi di tutti, ci sono tantissimi interessi e purtroppo quello che conta è esclusivamente il risultato. Il fallimento principale di un esonero non è tanto dell'allenatore ma secondo me della società stessa che ha scelto l'allenatore e che quindi deve dare la possibilità a questo allenatore di svolgere un suo programma che non può essere mai a breve scadenza ma a lunga scadenza, quindi quando hai scelto un allenatore, hai pensato che è capace di fare quello che tu hai programmato, gli devi dare poi il tempo di portare a compimento il suo programma. Effettivamente poi nello specifico fa più rumore l'esonero ad Empoli che è cosiddetta un'isola felice, cose come questa esonero non avvengono spesso mentre magari appunto avendo a che fare con allenatori, con presidenti tipo Zamparini uno è più abituato ma a prescindere dal più abituato o almeno abituato secondo me è importante che ci sia una preparazione anche da parte dei dirigenti, dei presidenti, una programmazione che magari in alcune società importanti, organizzate, preparate insomma questo non avviene difficilmente, faccio un esempio, io ho avuto anche la fortuna di conoscerlo personalmente la società Milan difficilmente esonerà un allenatore in corsa perché esonerà un allenatore in corsa vorrebbe dire principalmente ammettere di aver sbagliato e quindi invece si fa una scelta, si dà del tempo e poi alla fine del tempo stabilito all'inizio si valuta se il risultato ottenuto era quello che tutti quanti si erano prefissi o no. Adesso tu mi risponderai sicuramente di no, hai chiuso una grande carriera, magari con leggerezza puoi rispondermi, ti è mai capitato nell'arco della tua carriera di giocare contro un allenatore? No, assolutamente no, queste sono le famosissime leggende metropolitane che almeno da quando io ho iniziato a frequentare il mondo del calcio non mi è mai capitato di trovare, ma non io ma anche un mio compagno che giocasse contro l'allenatore, non so se prima succedeva, sicuramente nel periodo mio, io parliamo insomma degli ultimi vent'anni, non ho mai avuto a che fare con persone che facessero una cosa del genere. Hai vinto tanto con il Milan ma soprattutto con la Lazio, hai chiuso la carriera nel Torino, quali sono secondo te i problemi della società bianco celeste quest'anno? Perché sembra non essere la stessa Lazio dello scorso anno? Dov'è la causa se puoi individuarla? Ma innanzitutto ha fatto una premessa che l'anno scorso la Lazio ha ottenuto il massimo di quello che poteva ottenere, ha fatto un campionato straordinario dove tutte le cose sono andate bene, dove ci sono stati pochi infortuni, dove tutte le componenti insomma hanno combaciato per far sì che la Lazio se poteva ottenere 100 ha ottenuto 100, di solito è difficile ripetere per due anni di seguito la stessa cosa, cioè le stesse situazioni fortunate, lo stesso non avere magari infortunati, cosa che quest'anno invece ha. Quindi partendo da questo presupposto c'è da aggiungere che sono andati via due giocatori molto importanti Peruzzi e Oddo, c'è da aggiungere che l'anno scorso mi sembra che non avesse coppe, mentre quest'anno sta giocando la Champions League che ti porta via delle energie mentali notevoli ha avuto anche qualche infortunato più rispetto all'anno scorso e secondo me tutte queste cose fanno sì che la Lazio oggi sia disputando questa stagione che secondo me non è quella dell'anno scorso ma non è neanche da buttare via, anche perché bisogna tenere presente che ancora c'è più di due terzi di stagione da giocare e quindi possono sicuramente raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi all'inizio che non erano sicuramente penso quelli di vincere lo scudetto o di vincere la Champions ma di fare una stagione dignitosa e positiva come quella dell'anno scorso. Chiudiamo facendo due nodi al fazzoletto, due nomi, una per la vincitrice del campionato e una per la vincitrice della Champions League. Sì, te li dico ma io di solito su queste cose qua non ci ho mai azzeccato, lo scudetto penso l'Inter e la Champions il Milan. Grazie Giuseppe, in bocca al Lubert. Prego. Grazie.